Si è svolta a Petro Anello nell'incubatorio d'impresa del nucleo industriale la cerimonia di accoglienza di una trentina di studenti americani dell'Ig School di Princeton che saranno ospitati a Isernia nell'ambito di un programma di scambio culturale con gli studenti del liceo linguistico Cuoco che a loro volta, a breve, saranno ospitati a Princeton. Presente anche la regione con il presidente del consiglio regionale Vincenzo Cotugno che ha consegnato alcuni omaggi e ricordi del Molise ai docenti americani. La scelta della sede della cerimonia non è stata casuale perché il paese molisano della provincia di Isernia da anni è gemellato con Princeton, città dove anni e anni fa emigrarono a centinaia proprio da Petro Anello. E non bisogna neanche dimenticare che fino a qualche anno fa il direttore dell'orchestra di Princeton era un iserrino, il maestro Fernando Raucci. Insomma, due comunità strette da tanti legami. Petro Anello, dagli anni 90, grazie alle amministrazioni comunali dell'epoca e anche grazie ai cittadini di Petro Anello a Princeton, hanno iniziato questo percorso comune di gemellaggio. Quindi sono stati tanti progetti che hanno coinvolto le due comunità. E finalmente siamo riusciti, già due anni fa, grazie alla professoressa Donatella Schiavone, siamo riusciti a realizzare quello che è poi il vero senso del gemellaggio, Roberto Raucci e Princeton. Una finestra aperta, una finestra aperta per lo scambio culturale, una finestra aperta come strumento di crescita culturale. E ci siamo riusciti con due licei, un liceo di Isernia e un liceo di Princeton. Lo scambio culturale tra l'Aig School di Princeton e il liceo linguistico Cuoco di Isernia è stato voluto dalla dirigente di Sanza come importante passo in avanti nella programmazione delle attività didattiche del suo istituto e nel potenziamento delle conoscenze linguistiche. Questo tempo sarà un momento molto interessante sia per i ragazzi che accogliamo sia per gli altri, perché andiamo a condividere un po' non solo gli stili di vita ma anche il mondo culturale. Sarà un confronto sulle competenze linguistiche dei ragazzi, questo è l'obiettivo prioritario, ma anche un confronto più ampio per gli insegnanti, sarà un dialogo sulle pratiche didattiche, un confronto sulle pratiche didattiche nell'ottica della educazione interculturale. Sono due scuole che si sono aperte in questa prospettiva. Gli americani a Isernia perfezioneranno il loro italiano e poi una delegazione degli studenti isernini del Cuoco andrà a Princeton a perfezionare il proprio inglese. Allora il progetto si divide in due fasi, una che ha luogo a Isernia e l'altra che ha luogo a Princeton. Ora in questi giorni sono arrivati quindi i ragazzi di Princeton che sono 32 e i ragazzi di Isernia sono 36 del liceo linguistico di Isernia. I ragazzi saranno insieme in questi giorni e soprattutto avranno un'esperienza scolastica, quindi passeranno del tempo in classe con noi proprio per vedere come noi facciamo lezione e la stessa cosa faremo noi nella seconda fase a Princeton in cui andremo in aprile e passeremo diversi giorni con loro e trascorreremo questi giorni anche visitando ma soprattutto avendo un'idea del loro modo di fare lezione.